Musica In questa edizione dell'Evdi News, per la manovra finanziaria regionale arriva l'ok e i primi articoli salvi gli stipendi dei lavoratori. Si sono svolti questa mattina nel cortile del Palazzo della Cultura i funerali dei 17 migranti morti nel naufragio avvenuto lo scorso 12 maggio a 40 miglia dalla Libia. Da oggi e per ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.15 alle 10.30, i 350 lavoratori e l'Agenzia delle Entrate di Catania terranno le assemblee di protesta per denunciare gli abnormi carichi di lavoro a cui sono sottoposti. Le strutture tettoniche e subvulcaniche della crosta su cui poggia l'Etna verranno studiate attraverso l'esperimento scientifico Tomo Etna, al quale prenderanno parte oltre 60 ricercatori provenienti da diverse parti del mondo e che si incontreranno a Catania giugno e luglio. Sancer tappeti persiani lungo mare Catania, valori che il tempo non cambia. Favole, mille favole Magiche, tutte magiche Ti sapranno conquistare, andiamo a cominciare Principesse, fate draghi Cavalieri, mostri e maghi Salta sul trenino della fantasia Chiudi gli occhi insieme a noi, vola via Mille chiave per sognare Mondo Ragazzi, abbigliamento e accessori da 0 a 3 anni, ti regala 100 euro in buoni acquisto Promozione riservata a tutti i bambini nati nel 2013 e 2014 Mondo Ragazzi, nati con la camicia, a Catania in via Pola 19 Manca ancora l'ok definitivo a tutta la manovra finanziaria Ma ieri Lars ha dato il via libera agli articoli che prevedono i finanziamenti per i forestali I primi 18 milioni ma ne serviranno altri 20 dipendenti all'ESA, dell'EAS e dei consorsi di bonifica E soprattutto Lars è intervenuta sulle modalità di erogazione nel reddito per gli ex PIP di emergenza Palermo Una norma, quella approvata alcuni mesi fa in finanziaria, che aveva fatto molto discutere E che è stata riscritta dall'Aula Per far parte del bilancio, il limite di reddito da considerare non sarà quello dei 20.000 euro ISE Ma la stessa cifra calcolata come reddito individuale Nel caso del superamento di questo limite verrebbe calcolato il reddito ISE In quel caso il limite è stato innalzato a 40.000 euro Alcuni deputati poi hanno accennato alla possibilità di presentare un emendamento Che prevede il reinserimento nel bacino di alcuni PIP esclusi dal governo perché responsabili di alcuni reati Su questo punto però l'esecutivo ha preso tempo rimandando tutta una discussione da portare avanti oggi in commissione lavoro Intanto restano da sciogliere ancora alcuni nodi molto importanti Dunque la giornata ieri, che è stata molto lunga, ha cominciato in commissione e bilancio Si è chiusa con metà del lavoro da svolgere, altra metà che è stata rimandata ad oggi E proprio oggi si discuterà del cosiddetto allegato 1 previsto all'articolo 9 della manovra Che prevede un centinaio di voci di spese per renti regionali e qualche residuo dell'ex tabella H E poi c'è da risolvere un'altra questione molto delicata Ossia quella dei 1.800 lavoratori degli sportelli multifunzionali Molti dei quali hanno protestato proprio di fronte a Palazzo Normanni ieri durante la discussione della manovra Un emendamento del governo aprirà la possibilità che il Cepi di Priolo possa somministrare contratti a tempo determinato Una soluzione che dovrebbe tranquillizzare i lavoratori e che è stata accolta con non soddisfazione anche da alcuni deputati del PD come Panarello e Maggio Molto scettici nei giorni scorsi nei confronti del governo Presunte irregolarità potrebbero aver caratterizzato l'elezione del primo cittadino a Motta Santa Anastasia Ed è per questo che sei presidenti di seggi su nove sono stati convocati all'ufficio centrale per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale Dopo aver evagliato i verbali come da prassi Proprio analizzando i verbali si sono notate alcune irregolarità ed è per questo che si è deciso di parlare con i presidenti Anche perché i voti che dividono l'attuale vincitore Anastasio Carrà e il suo maggiore competitore Daniele Capuana sono solo 13 Capuana tuttavia non ha presentato nessun ricorso per il momento e aspetta dunque che i presidenti vadano a parlare all'ufficio centrale per l'elezione Si sono svolti questa mattina nel cortile di Palazzo Platamone i funerali per i 17 migranti vittime del naufragio lo scorso 12 maggio Tre uomini, 13 donne e due bambine che hanno trovato la morte a 40 miglia dal loro paese natale Un paese in continua lotta per il potere dal quale scappavano verso mete più felici, più serene Per 17 di loro purtroppo il sogno si è infranto prestissimo Un sogno che neanche hanno potuto immaginare le due bimbe di pochi mesi e due anni tra le 17 vittime del naufragio A Rito hanno preso parte il sindaco di Catania Enzo Bianco, l'arcivesco metropolita Monsignor Salvatore Grissina e l'imam Ettenneo Keitab della FID, presidente della comunità islamica di Sicilia Sia l'arcivescovo che l'imam hanno ricordato le parole di Papa Francesco quando si recò a Lampedusa Le morti nel mare sono spine nel cuore E' giusto dare l'ultimo saluto dunque a questi uomini, donne e bambini che sono morti per scappare da miseria e massacro Oggi la città di Catania sta dimostrando un grande cuore, un grande esempio di accolienza, d'amore Di carità per questi immigrati che purtroppo hanno perso la vita nel mare Noi chiediamo all'altissimo il perdono sempre e purtroppo abbiamo poco da fare per queste persone Tante anche le autorità civili e militari presenti insieme a rappresentanti alla Caritas e della comunità di Sant'Egidio che hanno portato la loro testimonianza e intervenuto anche un rifugiato scampato alla morte durante un naufragio Io sono molto felice di avere l'opportunità di parlare davanti a tutti voi, ha detto questo ragazzo di nome Felix Quando mi trovavo in Africa, nel Ghana, non conoscevo nulla della pace Pace che invece ho conosciuto qui a Catania entrando a far parte della comunità di Sant'Egidio E siamo noi singoli individui ad avere la responsabilità di portare la pace nelle famiglie, nelle comunità, nel mondo Ha detto ancora Felix e ha aggiunto Adesso un sogno, sostenere i poveri, i bisognosi e portare la pace nel mondo Perché è un diritto fondamentale per tutti, perché ogni singolo individuo desidera avere la pace nella propria vita Sarò veramente felice se tutti uniremo le mani per portare la pace nel mondo Perché uniti ci alzeremo, disuniti cadremo Sì, è una responsabilità per tutti nel mondo Pace è una responsabilità di tutti Io prima pensavo che portare pace fosse solo una responsabilità dei militari, di chi governa Oggi è responsabilità di tutti E' stato poi letto anche un messaggio in miato al sottosegretario all'interno Domenico Manzione Per testimoniare la vicinanza del governo nazionale A fine cerimonia sono stati dei posti dei fiori su ogni bara Il comune si farà carico anche della tumulazione in un'area centrale adeguata e dignitosa del cimitero E nell'area verrà eretto un piccolo monumento, una scultura in pietra lavica realizzata all'Accademia di Belle Arti di Catania Un gesto, detto il sindaco Bianco, che testimonia ancora una volta la grande partecipazione della città a questo evento così doloroso Per me è stato particolarmente toccante vedere insieme all'arcivescovo di Catania, l'imam, il rappresentante della religione copta Tutti insieme, a pregare tutti insieme Il padre nostro è la preghiera musulmana Tutti insieme come le religioni non possono non essere di fronte a questi drammi Una volta tanto Catania è stata all'altezza di una sfida e di un segno di civiltà Voglio lanciare un appello al governo nazionale e all'Europa Questa non è una questione che può essere lasciata alla responsabilità della Sicilia o della città di Catania o di altre città Occorre che l'Europa faccia sino in fondo la sua parte Cominciando a collaborare dai paesi da cui partono questi disperati Perché è lì che bisogna fare la propria azione E poi quando sono qui naturalmente accoglierli in un modo civile Soprattutto chi viene da paesi come l'Eritrea, come la Siria Da altri paesi dove c'è una condizione veramente drammatica È il nostro dovere e dobbiamo onorarlo sino in fondo Si era recato sotto casa di colui che gli aveva venduto l'auto Per risolvere con le buone maniere una controversia su una contravvenzione al codice della strada Ma è finita in tragedia la serata di un 32enne pregiudicato di Bronte Si tratta di Spukes Vincenzo che si era recato sotto casa del precedente proprietario Per intimarli di pagare la contravvenzione Per farlo Spukes si era fatto forte della presenza di altri due coetani Di cui uno pregiudicato Intorno alla mezzanotte i tre sono giunti sul posto e hanno trovato il figlio 37enne dell'uomo con il quale Spukes sarebbe subito venuto alle mani Svegliato dalle urla, Salvatore Portaro, pensionato, 70enne Uscito subito di casa e accortosi dell'aggressione nei confronti del figlio Si sarebbe fatto parte attiva nella colluttazione Fino a tirare fuori un coltello a serramanico verosimilmente tenuto in tasca E da coltellare al petto Spukes La vittima, sposato e padre di tre figli, colpita all'altezza del cuore Sarebbe subito stramazzata a terra E a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo Da parte dei sanitari del 118 immediatamente giunti sul posto Informati dell'accaduto, i carabinieri della stazione di Bronte Si sono subito recati sulla scena del delitto E presso il locale pronto soccorso Dove era presente anche l'anziano Che nella circostanza aveva riportato ferite da taglio alle braccia Intervenuti sul posto anche i militari del nucleo operativo Della compagnia carabinieri di Randazzo Che hanno assunto la direzione delle indagini Supportati dai militari della sezione investigativa scientifica Nel comando provinciale di Catania Acquisiti i primi elementi utili a una prima ricostruzione dei fatti I militari hanno interrogato i testimoni presenti E incalzato dalle domande dopo un lungo interrogatorio Il pensionato ha confessato l'omicidio Per lui fino a quel momento incensurato Si sono aperte le porte del carcere di Catania Piazza Lanza Disposta l'autopsia sul corpo della vittima Che nel 2009 era già scampata ad un agguato Mentre si trovava a maletto In compagnia di un noto pregiudicato mafioso di Bronte Sul posto sono stati inoltre rivenuti e sequestrati L'arma del delitto e altri elementi ritenuti utili Le indagini dei carabinieri sotto la direzione della procura Della Repubblica di Catania Proseguono per accertare l'esatta dinamica dei fatti Ed eventuali profili di responsabilità degli altri soggetti presenti Incidente stradale mortale la notte scorsa a Catania Un centauro alla guida di uno scooter di grossa cilindrata In Piazza dei Martiri nella zona vicino alla stazione Ha perso la vita la notte scorsa intorno alle 4.30 La vittima, di cui non si conosce l'identità Perché non aveva con sé alcun documento di riconoscimento Per cause ancora da accertare Ha perso il controllo del ciclomotore E si è schiantato sull'asfalto Sul posto gli operatori del 118 ed i vigili del comando di Catania Sulla vicenda dell'uomo che ha tentato lunedì di darsi fuoco Cospargendosi di benzina dinanzi all'ufficio Ipsi di Catania Interviene il Codacons Che ha presentato un esposto alla procura della Repubblica Presso il Tribunale di Catania L'uomo, spiega l'avvocato Isabella Altana Direttore dell'ufficio legale del Codacons Ha platealmente e pericolosamente protestato Perché invalido al 100% Si è visto revocare la relativa pensione Precedentemente riconosciuta e accordata Occorre far chiarezza sulla vicenda Continua in una nota il Codacons Sicilia Per capire in base a quali principi medici Un uomo viene riconosciuto invalido al 100% E successivamente giudicato guarito Da una o più patologie precedentemente invalidanti Non si tratta peraltro di un caso isolato Di pareri fortemente contrastanti Di diverse commissioni mediche Per cui bisogna far luce Oltre che sul caso specifico Sulle procedure adottate Per il riconoscimento delle invalidità Il Codacons Sicilia ha inoltre Richiesto alla procura della Repubblica Di accertare eventuali reati di omissione O abuso da parte di pubblici dipendenti Riservandosi di richiedere La Costituzione di parte civile La Guardia di Finanza di Palermo Ha dato esecuzione ad un'ordinanza Di applicazione della misura cautelare Degli arresti domiciliari Emessa dal GIP del Tribunale di Palermo Su richiesta della locale procura della Repubblica Nei confronti di un imprenditore Quarantenne palermitano Titolare di due aziende operanti Nel settore dei comprooro Con numerosi punti vendita Dislocati nella città L'indagine ha ad oggetto Il reato di estorsione Commesso dall'imprenditore Che secondo quanto accertato Dai militari del nucleo di polizia tributaria Approfittando della crisi economica E della progressiva riduzione Avrebbe costretto alcuni Tra i propri dipendenti Mediante la minaccia di licenziamento Ad accettare condizioni lavorative Contrari alle leggi E dai contratti collettivi E consistenti nella specie Nell'obbligo di restituire A se stesso ed in contanti Parte della loro retribuzione Proprio con riferimento All'ipotesi estortiva Le indagini dei finanzieri Partite da alcuni controlli fiscali Effettuati nei confronti Delle aziende di proprietà Dell'indagato E finalizzati a verificare L'osservanza delle disposizioni In materia di esercizio Dell'attività professionale Di commercio dell'oro Si sono poi concentrate Sull'analisi di alcuni file Rinvenuti nel corso Degli accessi fiscali Eseguiti E contenenti Alcuni prospetti riepilogativi Degli importi restituiti Dai dipendenti Rispetto alle proprie retribuzioni In alcuni casi I finanzieri hanno rilevato Che la restituzione Della retribuzione Risultava essere Di un ammontare Pari addirittura Al 50% rispetto a quella Indicata in busta paga In altri casi Veniva pretesa La restituzione Della tredicesima O della quattordicesima Mensilità Parallelamente Le indagini Delle fiamme gialle Palermitane Hanno permesso Di accertare Che il soggetto Al fine di realizzare Ingenti profitti Acquistava oggetti Di dubbia provenienza Compiendo operazioni Idonee A ostacolare L'identificazione Consistenti Nella fusione Dei metalli In lastre d'oro Nel corso Dei relativi approfondimenti È stata rinvenuta All'interno di una cassaforte Allocata in uno Dei punti vendita Una verga d'oro grezzo Dal peso Di circa 5 chili Priva di marchio Identificativo E del valore di mercato Di oltre 150.000 euro Il sequestro Dell'oro È stato convalidato Dalla locale procura Della repubblica Che in seguito Ne ha disposto La concentrazione Per la custodia Presso gli uffici Della banca d'italia Per tali condotte I finanzieri Hanno segnalato All'autorità giudiziaria L'imprenditore Anche per il reato Di ricettazione E per aver falsificato I registri Di pubblica sicurezza Essendone obbligato Alla tenuta Per legge Da oggi E tutti Lunedì Mercoledì E venerdì Alle 10.30 I 350 lavoratori Che operano Presso l'agenzia Delle entrate Di Catania Hanno deciso Di riunirsi In assemblea Questo per denunciare L'abnorme Carico di lavoro Che pesa Sulle vostre spalle Un lavoro Che dovete svolgere Ovviamente Quotidianamente Per il quale Avete chiesto Un confronto Con il direttore Ma nulla è cambiato Non c'è Reintegro di personale Non c'è Aggiunta di personale Tutto ricaduto Sulle vostre spalle Da qui la decisione Di questa assemblea Perfetto Praticamente Ha detto tutto Lei E' giustissimo Noi abbiamo tenuto Un'assemblea Con tutti i lavoratori Della direzione Provinciale Della entrate Di Catania A seguito Di tre incontri Che abbiamo avuto Con la direzione Per denunciare I carichi di lavoro Eccessivi Che ci sono ormai Da diverso tempo In questo ufficio Vorremmo lanciare Un po' Un appello Ai contribuenti A dire Che non è una cosa Ci dispiace Poter creare Delle problematiche Ma le deve Calcolare Che nell'arco Di un paio Di anni Abbiamo avuto Un terzo Dell'ufficio Che è andato In pensione Non sono arrivate Nuove forze O quelle che sono arrivate Sono veramente pochissime Rispetto a quello Che è la mole Di lavoro All'interno Dell'ufficio Abbiamo fatto Ripeto Tre riunioni Con il direttore Provinciale Che non hanno Sortito alcun effetto Al che abbiamo Deciso di fare L'assemblea Dei lavoratori E proprio i lavoratori Hanno deciso Di far proclamare A noi Organizzazioni sindacali Lo stato Di agitazione Si è sottolineato Il fatto Che chi è andato In menzione Non è stato Reintegrato Allora Quante le unità Che servirebbero A Catania Le unità Che servirebbero A Catania Parliamo di tutta La provincia Di Catania Sono veramente Notevoli Anche perché Ampie sono Le esigenze Lavorative Sappiamo Che quest'oggi L'agenzia Delle entrate Deve svolgere Un compito Fondamentale Che è quello Appunto Del recupero Sotto il profilo Fiscale Aspetto Che anche A livello Governativo È di grande Importanza Ed è soprattutto Stato sottolineato Con ampia Determinazione Da parte Anche del governo Quindi È chiaro Che l'esigenza Di personale Diventa sempre Più forte Anche in virtù Degli obiettivi Che vengono imposti Sia a livello Nazionale Che a livello Regionale Noi oggi Siamo qui Per dire Basta Ad un sistema In cui le persone I lavoratori Non vengono più Considerati come tali Ma vengono considerati Come numeri Come numeri Che devono realizzare Obiettivi Oggi Assolutamente Impossibili Da realizzare Abbiamo bisogno Di personale Abbiamo bisogno Di un riconoscimento Di una maggiore Dignità Del lavoratore E abbiamo ovviamente Bisogno anche che Da parte appunto Dei dirigenti Ci sia una consapevolezza Di questa situazione Non si miri soltanto A realizzare Quelli che sono Proprii obiettivi Anche di carattere Personale ed economico Ma si cerchi Di garantire Un'effettiva qualità Del servizio Correlata Anche a quelle Che sono Le esigenze Del personale Gli strumenti Che il personale Ha a disposizione Ovviamente Il clima Che si vive All'interno Delle agenzie Delle entrate E che è un clima Devo dire Di grande tensione È un clima Di grande disagio È un clima Dove i lavoratori Veramente sotto pressione Sotto un enorme stress Lavorativo Stanno veramente Subendo Le conseguenze Di una Di uno stato Personale Psicologico Veramente grave E che sta compromettendo Quello che è tutto L'intero sistema L'intero apparato lavorativo I pubblici esercizi E gli stabilimenti Balneari Del lungomare Associati alla Fipe Confcommercio Catania In merito Alla chiusura Al traffico Veicolare Del lungomare Entrano immediatamente In stato di agitazione Per un provvedimento Che viene già istituito Prima del tavolo Di concertazione In assenza totale Di attività progettuali Per le fruizioni Di diversamente abili Persone anziane Servizi igienici Attività collaterali E quant'altro Che costituiscono Sicuramente Un gruppo economico Che potrebbe incidere Sulle probabili perdite Di incassi Alle attività inerenti Dario Pistorio Presidente provinciale Fipe Confcommercio Ricorda che Tutti i pubblici esercizi E gli stabilimenti Balneari Della zona Hanno in carico Circa 600 addetti Che nell'Emore Potrebbero avere Una riduzione Di orari O una perdita Del posto di lavoro Non si attenua La crisi di turismo E commercio Come dimostra Il fatto Che nei primi Quattro mesi Del 2014 Secondo i dati Dell'osservatorio Confesercenti Nei due settori Hanno cessato L'attività 44.813 imprese Nello stesso periodo Le nuove aperture Nel commercio Nel turismo Sono state Solo 28.016 Per un saldo finale Negativo Di 16.797 unità Entrambi i settori Registrano più cessazioni Che aperture Nel commercio Il saldo è negativo Per 12.016 unità Mentre nel turismo È di meno 4.781 attività Il settore del turismo In particolare Sembra ancora lontano Dall'uscita della crisi Nei primi quattro mesi Dell'anno Il comparto alloggio Comprensivo di alberghi E hotel Ha visto chiudere 972 imprese 8 al giorno E solo 389 aperture Per una perdita secca Di 583 unità Negativo Anche il dato Dei bar Che da gennaio Registrano A fronte di 2.875 aperture Ben 4.872 chiusure 40 al giorno E un saldo negativo Di 1.997 imprese Ancora peggio I ristoranti Nel periodo In questione Ne hanno chiuso Circa 44.000 ogni giorno Per un totale Di 5.334 cessazioni Di impresa Con forti problemi Soprattutto in Sicilia Campania E Lazio Un rosso Che il pur alto numero Di nuove aperture 3.133 Non riesce a colmare Portando il comparto A perdere 2.201 imprese Per quanto riguarda Il commercio Per confesercenti Sembra essersi ormai Avviato Verso una fase Di destrutturazione Che premia I comparti Che presentano Meno spese Di impresa Cala infatti Il dettaglio In sede fissa Che vede Nei primi Quattro mesi Dell'anno 20.297 chiusure E un saldo Negativo Di 10.945 Mentre aumenta Il commercio Fuori dai negozi Le imprese Che vendono Attraverso internet Mettono a segno Un sostanziale Equilibrio Più 73 Mentre il commercio Su aree pubbliche Cresce di 530 unità E si conferma Come l'unico Comparto Anticrisi Del commercio Nonostante La cattiva partenza Il 2014 Per confesercenti Potrebbe portare Una timida Variazione positiva Dei consumi Nell'ordine Dei 3 miliardi Anche grazie Al bonus Fiscale E ai lavoratori Dipendenti Oltre 60 ricercatori Provenienti A diverse parti Del mondo Si riuniranno Nei mesi di giugno E luglio A Catania Per un esperimento Scientifico Coordinato All'Istituto Nazionale Geofisica E Vulcanologia Sezione di Catania Denominato Tomo Etna La ricerca Realizzata Nell'ambito Dei due progetti Europei Verrà supportata Dalla Marina Militare Italiana E' un esperimento Molto importante In cui si dispiegherà D'altro Una strumentazione Imponente Sul territorio Della Sicilia Nord orientale In particolare Saranno dispiegate Sismiche Sulla terraferma E 25 Sul fondo marino Che andranno Di integrare La rete sismica Dell'osservatorio Etneo Che già è abbastanza Ricca in questo territorio Poi mediando La creazione Di piccoli sismi Artificiali Verranno registrate Le onde sismiche Provocate Da queste piccole Esplosioni Che verranno fatte In mare Dall'appoggio oceanografico Che verrà dato A questo esperimento E la registrazione Di queste onde sismiche Permetterà La conduzione Delle ricerche Per approfondire La nostra conoscenza Del sottosuolo Etneo E della Sicilia Nord orientale Ancora oggi I maggiori limiti Nella comprensione E la dinamica Di questo vulcano Risiedono in parte Nella mancata conoscenza E le caratteristiche Strutturali Al suo basamento E della cross Intermedia e profonda Infatti Sebbene l'intera Sicilia Sia stato oggetto Di campagne pioneristiche Di sismica Crostale profonda Che hanno permesso Di ottenere Buone informazioni Sulle strutture Tettoniche offshore La conoscenza E le principali Faglie Presente Nella terraferma È ancora decisamente Carente Dunque L'obiettivo Dell'esperimento Topo Etna È quello di analizzare Le strutture Tettoniche Subvulcaniche Della cross Su cui pogge Il monte Etna Comprese le strutture Crossali Delle aria Adiacenti Sia a terra Che a mare Attraverso tecniche Di sismica attiva Che sfruttano Le onde Generate in acqua Con aria compressa E passiva Mediante la registrazione Degli eventi Sismici naturali Verranno utilizzate Due navi oceanografiche Anzi tre navi oceanografiche Se consideriamo Quella della marina militare E l'obiettivo principale È una migliore conoscenza Della struttura interna Del vulcano Etna Per realizzare Dei modelli di funzionamento Che ancora sono parziali E con una migliore conoscenza Proprio anche In termini di Meccanismi Di rassalita magmatica Ad esempio Abbiamo qualche idea Che una camera magmatica Importante Sia presente A 13-15 km Di profondità Dobbiamo verificare In maniera più attenta Anche perché ad oggi Le conoscenze Sono legate Ai primi 10 km Circa Al di sotto Del vulcano E quindi andremo A raggiungere Diciamo La profondità Del mantello Fino a 30 km Con un dettaglio Mai raggiunto Fino ad ora Nel contempo Si riusciranno A avere Tutta una serie Di informazioni Anche sulle strutture Tetoniche Sulle faglie Che interagiscono Con il vulcano È di notevole importanza Perché ormai È ampiamente accertato Che terremoti E vulcanismo In qualche misura Interagiscono Anche se sono studi Ancora di frontiera L'esperimento È stato presentato Questa mattina Ed è un motivo Un motivo d'orgoglio Per l'intero INGV Rappresenta Uno dei tanti Esperimenti Che fanno parte Di progetti europei Per fortuna L'INGV È un ente nazionale Mille ricercatori Che sono in grado Di acquisire risorse Per realizzare Grandi progetti Questo progetto In particolare Rappresenta La possibilità Di andare A comprendere meglio Quella che è La struttura interna Dell'Etna Per oltre un mese Verranno effettuate Indagini Raccolta di dati Che speriamo Con strumentazioni Moderne Come quelle Che metteremo in campo Ci permetteranno Di conoscere meglio Le radici Dell'Etna La costituzione Della sua struttura interna E della risalita Del magno E quindi anche Un contributo In termini Di protezione civile Per le popolazioni Che vivono I piedi del vulcano I piedi del vulcano